benvenuti in questa guida top 7 estrattori di succo di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo essenzia zero estrattore di succo questo estrattore di succo a freddo è un prodotto eccellente estratti naturali di frutta verdura sorbetti e latte vegetale sono facili da preparare con questo dispositivo il materiale tritan 100 per cento bpa free senza fetalati e senza nickel garantisce la massima sicurezza punteggio 81 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo am chef estrattore frutta e verdura questo estrattore di succo è fantastico funziona in modo eccellente masticando delicatamente la frutta e la verdura senza filtrare è anche privo di bpa e viene fornito con due tazze e un pennello il design elegante e moderno lo rende un ottimo acquisto punteggio 76 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo h conig gs x 16 estrattore di ho acquistato questo estrattore di succo di frutta e verdura h conig gs x 16 e sono rimasto molto soddisfatto la tecnologia lenta spremitura preserva tutti i nutrienti il motore da 320 watt è potente e silenzioso la funzione reverse è molto utile per evitare intasamenti punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare kinray estrattore di succo a un ottimo prodotto l'estrattore di succo kinray è silenzioso ha una funzione inversa e non contiene bpa la brocca da 600 millilitri è perfetta per preparare succhi di frutta e verdura freschi e nutrienti il pennello incluso rende la pulizia facile e veloce punteggio 82 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo imetec succo vivo pro 2000 estrattore un prodotto eccellente imetec succo vivo pro 2000 è un estrattore di succo professionale a freddo con spremitura lenta a 48 giri p e r m i n u t e due filtri per succhi accessorio per granite e sorbetti kit per maschere bellezza e ricettario ottima qualità facile da usare e pulire punteggio 86 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo panasonic mi lunga l 501 kx e slow juicer estrattore il panasonic mi lunga l 501 kx è un estrattore di succo professionale silenzioso e di alta qualità estrae lentamente il succo per mantenere vitamine antiossidanti e nutrienti include accessori per granite e sorbetti ideale per chi cerca un prodotto di qualità punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica h conig gs x 12 estrattore di succo ho acquistato l'h conig gs x 12 estrattore di succo a freddo e sono rimasto molto soddisfatto la spremitura lenta preserva tutti i nutrienti mentre l'acciaio inox e il bpa free garantiscono un prodotto di qualità il motore da 400 watt è potente e silenzioso punteggio 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale